2017, l'Abruzzo apre il nuovo anno con una brutta notizia per chi viaggia su quattro ruote. Nuovo rincaro per l'autostrada dei parchi. Già lo scorso anno per la stessa ragione era scoppiata la polemica e oggi, a peggiorare le cose, ci sono le riduzioni delle corse del trasporto su rotaia che dall'11 dicembre scorso hanno causato l'indignazione dei pendolari. Una situazione che sembra non volgere a favore dei cittadini che devono destreggiarsi tra risparmi, alternative e soluzioni provvisorie. Bisogna innanzitutto protestare nei confronti del Governo perché è inaccettabile che negli ultimi 15 anni l'autostrada dei parchi abbia aumentato, con la complicità del Governo, i pedaggi autostradali di oltre il 180%. In presenza di una inflazione vicina allo zero e soprattutto in presenza di investimenti veramente ridicoli Io penso che tutto questo gridi vendetta e che le istituzioni a partire dalla regione, dai comuni, dalle province debbano stare insieme alle associazioni imprenditoriali, agli autotrasportatori, ai cittadini, ai pendolari che utilizzano l'autostrada per andare a lavorare. Peraltro si accompagna alla penalizzazione costante della relazione Pescara-Roma ferroviaria E quindi io penso che c'è un disegno per puntare tutto ed esclusivamente sul trasporto privato e che quindi si smobilizzi una modalità di trasporto ecologicamente significativa sicura per i cittadini come appunto la ferrovia.